Siamo alla diciannovesima edizione, sabato 1 agosto, all'Anfiteatro Rastat. È un'edizione dedicata all'emergenza salute, che è un tema particolarmente caro in questo periodo. Mai come questo periodo ci siamo accorti quanto sia importante prendersi cura dell'altro e garantire il diritto alla salute di tutti. Quindi con l'Africa nel cuore vuole essere una serata per parlare dei progetti che l'Africa Chiama sta portando avanti in Kenya, Zambia e Tanzania e in Italia. Attraverso anche una campagna solidale, diritto alla salute per tutti. Questo è proprio il tema dedicato. E proprio attraverso questa raccolta fondi, grazie a questa lotteria solidale, potremmo realizzare quattro interventi concreti. In Tanzania garantiremo spese mediche e cure per bambini gravemente malnutriti. In Zambia faremo un intervento dedicato alle donne in gravidanza e quindi attraverso la distribuzione di integratori, vitamine, quindi garantire la salute materno-infantile. In Kenya attraverso progetti dedicati a donne sieropositive. Il quarto progetto invece è dedicato all'Italia. Infatti attraverso questa raccolta fondi devolveremo una parte che sarà destinata all'acquisto di materiale come mascherine chirurgiche che saranno devolute appunto e donate nella serata di sabato 1 agosto a dei centri diurni disabili del comune di Fano. Quindi ecco l'invito è quello di venirci a trovare sabato 1 agosto, sarà una serata molto allegra nel rispetto delle norme date dall'emergenza in cui si esibiranno gratuitamente alcuni artisti. Ne cito qualcuno, Canute e Jabel con la sua Cora, la scuola di danza Accademia dello Spettacolo di Fano e poi ci sarà anche la testimonianza di Nicola Romiti che è quindi la presentazione di questo cortometraggio Nico e Nico sulla sindrome di Williams e quindi conosceremo meglio questa realtà. E quindi l'invito è di acquistare un biglietto perché anche ogni piccolo contributo potrà veramente aiutarci a realizzare questi progetti.